Valori morali, virtù cognitive, adattamento, obbedienza, autocontrollo, ma soprattutto signori, razionalità, espansione dell'intelletto, gestione della disperazione e del disagio emozionale. In una parola, gentili signori e signore, liberazione dal corpo animale! L'animale non è l'animale, è una metafora. Anche l'animale di cui penso io di parlare in questo spettacolo siamo noi, è una parte di noi. Il corpo animale è un problema, perché non è adatto, signori, a custodire i valori della nostra civiltà. Ed è per questo motivo, lo sappiamo, che da millenni l'esercito della nostra volontà interiore presidia i confini del regno umano, dall'assedio delle schiere anarchiche barbare di quell'animale. Li sentite? Gli animali premono alla frontiera del nostro mondo! I confini sono luoghi di passaggio e luoghi di trasformazione. La trasformazione è un momento di crisi, sempre. Io fin da piccola, nel mio viaggio di allieva nel teatro, ho scoperto che la crisi contiene un cuore poetico. Lì c'è qualcosa di profondamente umano vicino a noi. C'è sempre qualcosa che è quasi indicibile ma che vorremmo tanto che fosse detto di noi. E' quando noi mutiamo o ci trasferiamo da un luogo di noi stessi ad un altro che succede qualcosa di poetico. Ah! Ah! Bundeva! Certo, io sono una scimmia! Sono un animale! E per gli uomini gli animali devono stare rinchiusi in una gabbia! Ecco, ecco la via di fuga, la via di scampo, signori! Io avrei smesso di essere quello che sono! Ovviamente per me poetico è ciò che è più possibile sacro dell'umano. Quindi l'animale è l'uomo, è il passaggio, diciamo il patteggiamento costante e continuo che io faccio tra me, me autentica, me voce autentica, mia profonda che sta nel corpo, in quello che sento e il mondo, è la mia relazione col mondo. Entrambe queste dimensioni sono indispensabili alla mia sopravvivenza. E in questo patteggiamento sta, secondo me, nella qualità di questo patteggiamento sta, secondo me, la felicità. Ma cosa intendo per via di scampo, signori? A scaso di equivoci vorrei chiarire che non intendo libertà. Chi entra nel mondo degli uomini attraverso la porta di una gabbia sa quanto illusorio e sciocco sia quel sublime senso di libertà a cui nobilmente essi stessi spesso aspirano. La libertà, signori, è una sublime aspirazione del tutto umana che una scimmia non può aver conosciuto. una scimmia libera intendo. Quale potrebbe essere la sua libertà? Grattarsi la schiena? Spulciare, farsi spulciare? Correre, aggrapparsi, saltare, mangiare, succhiare, leccare, sognare, dormire, sbadigliare, correre, aggrapparsi, montare, urlare, sbattere le mani, sbattere i piedi, rotolarsi, saltare, aggrapparsi, ne converrete, signori, che non è di questo che parliamo quando parliamo di libertà. Questa scimmia diventa attore del varietà, io lo spingo un po' oltre Kafka e dico anche proprio intrattenitore, buffone, cool, e lì ci ridimostra come l'imitazione dell'atto, dell'azione, del gesto quando è scollata dal contenuto emotivo è mostruosa. Il varietà, è ovvio, era quello il mio destino, signori, il varietà, e fu così che imparai, a come si impara, signori, quando si deve imparare, si impara disperatamente, si ruba la frusta al padrone, ci si sorveglia da soli, ci si strappa la carne dal corpo senza buone resistenza, signori. E' lì la mostruosità di questa scimmia, la sua mostruosità non è nei movimenti, non è in questa voce sgraziata, non è in questo impaccio costante che non sarà mai un umano, come si deve, ma la sua mostruosità non è lì, la sua mostruosità è nello scollamento tra il pensiero, il linguaggio, le azioni e quello che sente dentro. Ecco il buffone, maschera archetipica del teatro che fa esattamente questa cosa qua. Sua maestà, 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 permetti un indovinello, cosa hanno in comune? Uno schiavo nero in catene, una cassa d'oro in catene e una stupida scimmia in catene? La comicità e il teatro popolare sono legati, ma sono legati perché il teatro popolare a una matrice sovversiva. Se non ce l'ha, non è teatro popolare. Non è. Ecco, queste cose qui devono essere ben chiare quando si lavora sulla comicità nell'ambito del teatro popolare. Non è rassicurante la comicità. La comicità è liberante e la libertà fa paura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.